Il 5 maggio sarà l'umanitaria, perché tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi devono essere felici, perché bisogna fare una scelta, bisogna decidere da che parte stare, bisogna decidere se stare dalla parte della felicità delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e quindi lavorare perché questa felicità sia realizzabile tutti i giorni, oppure se stare dalla parte dell'indifferenza, dell'odio, del rancore, del non interessarsi di quello che succede intorno a te. Il 5 maggio all'umanitaria si parlerà di tutto questo. Il 5 maggio all'umanitaria l'idea è quella di far partire il percorso che porti alla costruzione di un movimento, un movimento importante, un movimento trasversale, un movimento che coinvolga tutti quelli che possono lavorare sulla felicità delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Le maestre, i maestri, le professoresse, i professori, le educatrici, gli educatori, ma anche le mamme, i papà, le nonne, i nonni, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, tutti quelli che sono davvero interessati a fare in modo che dalla felicità delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi parta il percorso per ricostruire una società migliore.